e lunedì ventisette marzo buongiorno a tutti i telespettatori di eh tv dodici e bentrovati al nostro appuntamento del mattino il primo in diretta con la rassegna stampa subito le prime pagine dei quotidiani nazionali eh dove in primo piano eh su buona parte della stampa nazionale troviamo ancora la questione eh migranti soccorsi delle ONG e i tanti migranti presenti nei centri di eh accoglienza del sud Italia di Lampedusa in particolare allora subito il Corriere della Sera ecco qua il titolo di apertura sbarchi caos e sequestri titola il eh Corriere Lampedusa al eh collasso fermata la nave umanitaria dell'artista eh Bansky continuano le partenze i medici dicono arrivano tante donne incinte altri naufragi almeno ventinove eh morti e poi eh vediamo l'intervista al ministro degli esteri eh Tajani che dice bisogna aiutare Tunisi la crisi spinge i eh barconi andiamo nel eh taglio eh centrale dove eh troviamo eh lo sport ma anche eh gli esteri per lo sport la nazionale con la vittoria contro Malta Retteghi segna ancora e trascina la nazionale e l'Italia si riscatta coglie la prima vittoria sulla strada per la qualificazione agli europei e gli azzurri vincono due a zero contro Malta ancora in gol con Retteghi raddoppio di eh Pessina e poi di spalla eh la guerra in eh Ucraina la Nato condanna l'escalation di Putin irresponsabile e lo zar replica l'Occidente è oltre la linea rossa con le nuove fornitori di armi a eh Kiev. Andiamo su Repubblica le ONG sotto attacco titola eh Repubblica in apertura. Emergenza eh sbarchi la guardia costiera Ocean Viking e Sea Watch ostacolano i eh soccorsi. Fermata la nave di Vanschi salviamo vite e voi eh guardate questo dicono le ONG dramma a Lampedusa e i bambini dormono per terra. Oggi il click day attesi ottantaduemila lavoratori stranieri ne servono il doppio oggi il eh via alle eh procedure per la regolarizzazione eh dei eh lavoratori eh migranti. L'Unione Europea pensa di ripristinare l'operazione eh Sofia affondata da eh Salvini. e poi a centropagina vediamo le eh foto che ci arrivano dall'hotspot di eh Lampedusa. L'isola è eh al collasso. Di spalla gli esteri eh oltre alla situazione alla crisi in eh Ucraina dove si gioca la sfida Cina eh Stati eh Uniti dice ehm Ezio Mauro troviamo in primo piano anche eh le eh proteste in eh Israele. Israele la rivolta assedia Netanyahu che valuta lo eh stop alla riforma. Netanyahu valuta di congelare la riforma della giustizia. Il premier dopo aver licenziato il ministro della giustizia che si era opposto alla riforma viene assediato dalla eh folla. Chiudiamo anche Repubblica vediamo la stampa eh in apertura la stessa notizia ONG sotto eh tiro ostacolano i eh salvataggi la guardia costiera dice troppi soccorsi e regole eh vietate. Gabrielli attacca la linea dura non eh paga e poi vediamo la foto eh di una delle navi eh umanitarie la nave di eh Banschi che resta in eh porto. Dalla stampa andiamo sul giornale le ONG ostacolano i soccorsi denuncia della guardia costiera i militari con le loro continue chiamate intralciano i salvataggi dei migranti eh si muove la procura e intanto non si fermano gli eh arrivi. Dalla prima del giornale andiamo anche su libero il caro migranti un miliardo i costi dell'ondata le stime del lanci su quanto l'Italia spenderà in più per sostenere il picco di eh sbarchi e la guardia costiera accusa le ONG chiamate continue ostacolano i soccorsi in mare. Ecco come il Viminale si prepara ad affrontare l'emergenza in eh estate. Chiudiamo la prima pagina di Libero e andiamo a vedere adesso la eh verità che apre invece ancora sulla gestione dell'epidemia covid così Pfizer ha eh sovvenzionato i medici durante la pandemia eh una interessantissima pioggia di denaro dice la verità. Nelle duemiladiciotto i finanziamenti del colosso farmaceutico in Italia erano appena centosessantanove mila euro. Nel duemilaventi e nel duemilaventuno si è superata quota dieci milioni tra i destinatari anche enti e associazioni che poi spingevano per i eh vaccini. Chiudiamo anche la verità e vediamo il fatto eh quotidiano super bonus la mazzata finale ai redditi eh più bassi Patuanelli Movimento 5 Stelle al fatto quotidiano dice governo in eh confusione i partiti ci aiutino a eh rimediare e poi eh per quanto eh riguarda eh il fatto economico del lunedì si guarda alle ehm società partecipate dietro i nomi dei partiti non c'è eh un'idea dice il fatto quotidiano Eni è nel poste Leonardo ci si scanna sulle poltrone ma non sui criteri per scegliere i manager tra guerra e crisi energetica il futuro di questi colossi è eh cruciale. Sempre sulla eh stampa nazionale vediamo anche il foglio il foglio del lunedì che oggi apre parlando di intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale salverà la eh democrazia titola il foglio in apertura con questo articolo di Antonio Pascale fra talk show tweet like e opinionisti improvvisati il dibattito politico è scaduto a eh intrattenimento ciò che sappiamo deriva dal sentito dire e non ci aiuta nelle scelte gli antichi greci usarono anche il caso per i loro esperimenti democratici forse per noi sarebbe ora di ricorrere all'intelligenza eh artificiale ancora andiamo anche sul gazzettino uno sguardo a nord est anche qui in apertura però troviamo la notizia dei soccorsi ai migranti ONG sotto accusa titolo al gazzettino e poi le parole della guardia costiera che dice troppe segnalazioni fotocopia intralciano i eh soccorsi a largo della Tunisia ventinove morti per la cronaca centropagina tragica escursione in valle Aurina per due fidanzati sulle ciaspole sepolti dalla valanga e poi ancora nel taglio alto a Padova esplode la casa lei muore zio eroe salva i due figli una fuga di gas all'origine eh dell'esplosione decisivo l'intervento del fratello del marito a Padova l'ite di coppia in centro ruba la pistola al carabiniere e spara attimi di paura nel tardo pomeriggio di eh ieri ancora andiamo anche sulla eh prima eh pagina del sole ventiquattro ore i centri del futuro Amsterdam Londra Milano ecco le città attira talenti e eh fondi le metropoli del post covid green accessibili smart con una mobilità adeguata in grado di conquistare nuovi abitanti e eh investimenti e poi invece a centro pagina il bonus casa otto modifiche alle eccessioni dopo gli emendamenti votati giovedì scorso arriva eh al rush finale il eh decreto che appunto eh modifica il regolamento per quanto riguarda il bonus eh casa in particolare la cessione del eh credito ancora eh sempre per quanto riguarda la stampa nazionale vediamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi dove troviamo in primo piano appunto la la nazionale di calcio che ieri si era battuto Malta per due a zero la gazzetta titola reteghi c'è l'Italia meno altro gol dell'Oriundo due a zero a Malta al centro avanti apre Pessina chiude la rivoluzione ancora non paga ma cambiare è la strada giusta Mancini dice dovevamo far meglio eh tutto se le parole del eh CT le altre notizie per quanto riguarda il calcio Conte addio finita col Tottenham divorzio consensuale in panchina eh Stellini e poi vediamo il Milan che studia come fare cassa per puntare eh Morata nel taglio centrale il mondo dei motori con la moto GP in Portogallo Pecco show eh bagnaia domina è già una Ducati da mondiale Buffera Marquez cade e fa eh cadere il corriere dello sport solo reteghi qualificazioni euro duemilaventiquattro una nazionale deludente vince due a zero a Malta segna ancora e sveglia l'Italia la Lazio lo vuole colpo di testa dell'Oriundo e secondo gol in due partite Pessina firma raddoppio Mancini critico tutto andava fatto eh meglio nel eh taglio alto si invece si guarda al eh campionato ma anche alla Champions con la maratona Napoli Milan sedici giorni senza fiato tre volte di fronte tra campionato e Champions le due eh squadre italiane aprile di fuoco per Spalletti e Pioli prima sfida il due l'ultima il diciotto eh Giordano si sbilancia il gruppo di Luciano può aprire un eh ciclo tutto sport a centro pagina venia vediamo la MotoGP non c'è non ce n'è per nessuno titola eh tutto sport bagnaia i Ducati e subito trionfo mondiale dopo la gara sprint Pecco vince anche il GP del Portogallo ricandidandosi con forza a un nuovo titolo mondiale Bezzecchi sul podio quattro rosse e un'apriglia ai primi cinque posti accusi a Marchez che gioca ai moto scontri dice eh tutto sport nel taglio alto la nazionale Italia lui almeno fa gol il riferimento è eh all' attaccante Reteghi che conforta ancora Mancini il incornata dell'Oriundo e zampata di Pessina per la eh prima vittoria al gioco però latita e il Citi Cupo bisogna migliorare tutto l'Inghilterra batte l'Ucraina e va a sei eh punti di spalla in casa Juve il giorno dei giudizi eh dice tutto sport oggi esami verità per i due eh giocatori Chiesa e eh Kostic eh udienza preliminare dell'inchiesta eh Prisma e si aspetta la sentenza del Consiglio di eh Stato sulla carta eh Coviso Coviso ecco perché il giorno dei eh giudizi ancora eh quotidiani eh di oggi ma dalla stampa nazionale passiamo eh su quella eh locale è Gazzettino Messaggero Veneto eh piccolo ecco il dorso del Friuli del Gazzettino in eh apertura vediamo la cronaca Faedis si è costituito l'investitore il trentunenne si è presentato in caserma spiegando di essere stato preso dal panico dopo aver travolto Luigi Novanone l'incidente era avvenuto nella eh tarda serata di eh sabato allora andiamo a vedere il eh servizio. Si è costituito stamane ai carabinieri l'automobilista che ieri sera poco prima delle ventuno nel comune di Faedis in via Udine ha investito uccidendolo il ciclista sessantacinquenne Luigi Novanone. Si tratta di un trentunenne della zona che si è presentato ai militari della compagnia di Cividale del Friuli spiegando di essere fuggito dopo l'incidente perché preso dal panico. Essendosi presentato spontaneamente alle forze dell'ordine entro ventiquattro ore dal fatto nei suoi confronti non è scattato l'arresto. L'uomo è indagato per omicidio stradale colposo con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Luigi Novanone pensionato risiedeva nel comune di Faedis nella frazione di Ronchis come riferito dal comando provinciale dei carabinieri stava rincasando in bicicletta dopo qualche ora di svago quando è stato colpito dall'auto guidata dal trentunenne e scaraventato nell'impatto in un fossato a bordo strada. Troppo gravi le lesioni riportate. Vanone è morto sul posto. Non è chiaro che abbia chiamato il numero unico per l'emergenza il 112 ma a nulla sono valse dunque le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario giunto da Udine da Cividale del Friuli. Luigi Novanone come riporta L'Ansa aveva collaborato con le proloco di Faedis e di Campeglio ed era noto per aver svolto in passato lavori socialmente utili per il comune. Appassionato di calcio era stato arbitro della Lega Calcio Friuli Collinare. E sono tanti gli incidenti che hanno coinvolto biciclette, ciclisti avvenuti negli ultimi mesi. Vediamo. Un ciclista morto ogni due giorni. Era la tragica media secondo l'International Transport Forum degli incidenti stradali in Italia, il paese con il più alto tasso di mortalità per chilometro pedalato. Una media relativa al 2022 e che si sta rimanifestando anche in questo anno. Ieri l'ennesima vittima, un uomo di 65 anni che a Faedis percorreva la strada in bici. Il Friuli Venezia Giulia e il Friuli in particolare resta comunque una regione dove è alto il numero degli incidenti stradali in cui sono coinvolti ciclisti o comunque persone che vanno in bicicletta. Tra i casi che hanno avuto maggiore eco ci sono quello di Porcia dove a fine agosto una soldatessa americana della base USAF di Aviano, ubriaca, travolse Giovanni che portava la bici a mano mentre di notte tornava a casa. In ottobre un giovane di 26 anni di casarsa della delizia morì per le gravissime ferite riportate in un investimento stradale avvenuto di sera poco dopo le 21.30 mentre in bici transitava lungo la ex strada provinciale 1 nel comune di San Martino al Tagliamento. Un'auto che percorreva nella sua stessa direzione l'aveva colpito da dietro. Alla guida c'era un ragazzo di 20 anni della zona. Secondo l'International Transport Forum per contrastare il verificarsi di queste tragedie sarebbe utile inserire nel codice della strada nazionale un'indicazione della distanza minima da far rispettare agli automobilisti che sorpassano i ciclisti. Sempre la prima pagina del gazzettino del Friuli caccia all'abusivismo blitz nel mondo dei rider. I carabinieri indagano sulle posizioni lavorative dei fattorini friulani. Per l'economia la regione in pole per la ricostruzione del conflitto dell'Ucraina alla fine del conflitto. Andiamo nel taglio centrale e vediamo la fotonotizia. Il Pellarini celebra l'alpinista Dugan e poi moto contro un capriolo centauro ferito. Gite scolastiche sempre più care studenti a casa. Nel taglio basso lo sport per l'udinese difesa da ricostruire e poi l'old wild west vince facile la gestecco affonda. Calcio dilettanti e tolmezzo tre gol e la promozione. Tra poco andremo anche sulle pagine sportive dei quotidiani locali. Adesso però vediamo in apertura le altre notizie sul messaggero veneto edizione di Udine. Ecco qua nuovi tutor e orientatori così cambierà la scuola, l'istruzione in Friuli Venezia Giulia. Opereranno alle superiori. I presidi scettici lavoriamo già su questi obiettivi. E poi vediamo anche sul messaggero veneto di Udine a centro pagina. Proprio l'incidente di Faedis ciclista travolto e ucciso. L'investitore si costituisce ai carabinieri dodici ore dopo. Andiamo di spalla. Gli animali selvatici coinvolti in quasi duemila incidenti. E poi gli striscioni appesi dai pescatori. Troppo eh troppi limiti poco pesce. E oggi c'è lo sciopero del trasporto pubblico locale a Udine manca personale. Oggi sciopero a Udine dei conducenti dei bus. Di spalla vediamo un po' di politica con la sfida eh tra i candidati verso le regionali camion vela camper gadget la campagna a colpi di eh slogan. Nelle pagine sportive vediamo eh l'Italia in eh primo piano. Gli azzurri di Mancini dopo il K.O. con gli inglesi si rifanno con eh Malta. Andiamo sulle pagine interne. Andiamo a vedere la prima del fascicolo di eh Udine del messaggero Veneto. Ecco qua. Salvini sui passaggi a livello. Li toglieremo come eh promesso. Queste le parole del ministro per le infrastrutture e per i trasporti e ieri a Udine. Il ministro con Fontanini sui binari e prima la visita alle case popolari di eh San eh Domenico. Questa l'apertura del eh messaggero Veneto di eh Udine poi vediamo anche eh nella eh pagina eh sulla sulla destra nella pagina eh accanto anche a Paderno il comitato di Paderno eh resiste non fate qui il tempio crematorio alla manifestazione davanti al cimitero presente anche il candidato del centro-sinistra De Toni. I cittadini di Paderno dicono nessuno ci ha ascoltato troppe promesse disattese l'opera avrà effetti negativi eh dicono. Chiudiamo anche eh questa pagina dal messaggero Veneto di Udine passiamo all'edizione di eh Pordenone dello stesso eh quotidiano ecco qua la prima pagina in apertura si parla sempre di eh scuola con la stessa notizia lo stesso titolo che abbiamo visto anche sul ehm messaggero Veneto di eh Udine poi i controlli dei carabinieri sui rider per combattere lo eh sfruttamento dei eh lavoratori dei eh lavoratori al teatro Ruffo di eh Sacile questa sera al dibattito con i cinque candidati eh sindaco Sacile dove l'archivio storico è infestato dai eh topi nel eh taglio alto una eh foto del Meduna dall'alto quasi in secca un piano anti eh siccità e andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di Pordenone dove troviamo proprio l'approfondimento di eh questa notizia l'emergenza idrica il Meduna quasi in secca le mosse del consorzio per affrontare la siccità la portata del fiume è scesa alla metà della media storica in questo periodo senza precipitazioni abbondanti diventeranno inevitabili misure eh antispreco è questa è questo è eh il titolo e poi vediamo anche appunto tutto l'articolo che lascio a voi eh leggere. Chiudiamo il giro sui quotidiani eh regionali con la prima del piccolo di Trieste il super bonus in eh primo piano super bonus priorità allo sblocco dei eh crediti in commissione fra gli emendamenti anche la eh detrazione in eh dieci anni ma solo per le eh banche e per le eh imprese. Ancora vediamo la foto di ehm della galleria di piazza Foraggi e nuovo rinvio per eh la ehm riapertura alla sistemazione. Chiudiamo il piccolo e rimanendo sulla stampa locale iniziamo a scorrere assieme le pagine sportive. Allora riprendiamo in mano il gazzettino del eh Friuli e vediamo la prima pagina di ogni sport che apre eh con l'udinese con le mosse di eh sottil difesa tutta nuova di fronte al Bologna. Mobilità e Zibue, Masina e Zigelar per sopperire alle squalifiche. Toccherà ad Arslan schermare il reparto. L'influenza frena success che non vuole mancare. Allarme Biol eh titola il eh gazzettino alla ripresa delle ostilità. L'udinese servirà un'impresa per superare al Dallara l'ostacolo Bologna. I bianconeri domenica le dodici e trenta saranno costretti a scendere in campo con una formazione inedita. priva di eh due pedine eh difensive. Perez e Becao squalificati del regista basso Wallace pur appiedato e con un Masina in dubbio e senza i novanta minuti eh nelle gambe. Il tutto condito dall'assenza di Deulofeu e bosse per i quali il fine corsa è giunto troppo eh presto ma è nei momenti di difficoltà che la squadra vera sa mostrare il suo volto. L'udinese in cinquanta anni di serie A ma soprattutto nell'era Pozzo lo ha più volte dimostrato scrive il eh gazzettino. Poi vediamo nel eh taglio basso l'appuntamento clu ad aprile contro i eh giallorossi una partita con la ehm Roma. In questo articolo poi si guarda agli appuntamenti che il eh calendario propone in questo mese eh di aprile. Gli impegni dei bianconeri con le nazionali. Semedo e Samarzic debuti nazionali in salsa bianconera. Prime presenze con le rispettive selezioni per il portoghese nell'under diciotto e per il tedesco che ha scelto la Serbia. Invece l'azzurro Pafundi dopo tanti elogi ricevuti dal Citi Mancini si è trovato confinato in eh tribuna. Ancora il gazzettino eh vediamo eh dal ehm dal calcio adesso passiamo al anzi continuiamo con il calcio perché oggi gioca il ehm eh Pordenone e e quindi vediamo eh appunto Ramarri Prosesto chi vince minaccia la leader Feralpi stasera al Tognon di Fontana Fredda al Pordenone potrà contare sulla spinta di oltre duemila tifosi Stefani ci crede e dice dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della eh situazione. Cambiando sport ma rimanendo sulle pagine del eh gazzettino eh vediamo eh anche il eh basket eh per quanto riguarda la gesteco sconfitta eh in dolore ha perso Cividale eh contro eh chiusi settantasei a sessantadue i ducali cadono anche sul parchè dell'umana chiusi con la testa che sembra già proiettata verso la post season quando sale in cattedra utomi per i friulani e notte fonda sabato arriverà a Cividale e l'Urania comincerà un'altra eh storia vince invece l'Old Wild West 104 eh a eh 83 contro eh Nardò e il titolo del eh gazzettino è l'Old Wild West batte senza fatica il Nardò i bianconeri udinesi non hanno avuto alcuna difficoltà contro i giovani eh pugliesi gentile torna e firma eh subito dodici eh punti l'Ander Zomero entra e lascia il eh segno chiudiamo il gazzettino e andiamo sulle pagine sportive del messaggero veneto visto che stavamo parlando di eh basket eh iniziamo l'analisi delle pagine sportive proprio dal basket l'Old Wild West si diverte coi baby Nardò eh titola il messaggero veneto e allora eh leggiamo le eh prime righe eh dell'articolo intanto l'Apu chiude la regular season battendo i pugliesi decimati finale di festa al Carnera e domenica eh sotto con eh Piacenza la partita non conta per i destini immediati delle due formazioni ma è bello vedere il Carnera riempirsi prima di giovani cestisti e protagonisti del torneo organizzato dalla PU e poi di tifosi eh curiosi di vedere l'evoluzione della loro squadra è vero la prima fase che si è conclusa è stata dir poco travagliata per Udine ma il futuro è lì è tutto da scrivere nella seconda fase e soprattutto nel playoff l'Old Wild West fatica due quarti contro mezza Nardò poi si prende l'ultima partita di regular season per quanto riguarda invece eh Cividale vediamo eh in serata decisamente no chiusi ringrazia e vince in carrozza gesteco subito sotto nel punteggio troppi gli errori commessi eh dalle Eagles che vanno sotto anche di ventiquattro questo per quanto riguarda eh Cividale il calcio adesso allora andiamo subito in apertura del fascicolo sportivo eh con eh questo titolo Pafundi la fiducia di Mancini vale la eh tribuna il CT in difficoltà con i risultati ha scelto di non schierarlo neppure ieri contro Malta resta lo spot della convocazione palla all'Udinese per le ultime undici di eh eh campionato e poi vediamo appunto per quanto riguarda la nazionale riscatto maltese azzurri era il eh minimo invece per quanto riguarda eh appunto eh l'Udinese e Zibue e la chiave per la eh difesa Sottilla ha cominciato a provare la retroguardia per Bologna dove non avrà Becao e Peres l'esterno può essere arretrato e poi vediamo che al dall'ara si gioca lo ricordiamo all'ora di pranzo e anche l'allenamento ovviamente dei eh bianconeri viene eh programmato in virtù di questo orario della eh partita la pagina eh accanto success e quell'influenza che può anche preoccupare il nigeriano non si è ancora allenato dopo la gara col Milan la speranza è che da domani eh riprenda. Ancora sempre sulle pagine del eh messaggero Veneto vediamo anche per il Pordenone ultima chiamata per tentare l'assalto alla vetta i neroverdi impegnati questa sera nella sfida contro la Prosesto seconda in classifica vincendo la squadra di Stefani salirebbe a quattro lunghezze dalla eh capolista Feralpi eh Salò appuntamento questa sera alle venti e trenta allo stadio Ottonion di eh Fontana Fredda. Noi chiudiamo questa pagina del messaggero Veneto e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa eh di oggi come sempre è il momento di dare un'occhiata prima di salutarci agli appuntamenti di questo lunedì sul nostro canale con il magazine alle dieci il Tg di pranzo alle dodici alle quindici l'appuntamento con pomeriggio calcio alle sedici il Tg Flash del pomeriggio dalle diciannove la fascia informativa serale con il Tg Sport seguito dal Tg News ventiquattro alle venti agendina speciale elezioni alle ventuno come ogni lunedì l'appuntamento è con Udinese Tonight. È tutto noi ci fermiamo qui vi lasciamo alle previsioni del tempo ne auguriamo ancora a tutti voi. Un buon inizio di settimana. Un saluto e ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e le amici di TV12. Giornata di lunedì caratterizzata dall'alta pressione dominante su tutto il friuli Venezia Giulia quando avremo sole prevalente per l'intera giornata con temperature massime con valori tra i 15 e i 18 gradi nelle ore centrali della giornata. Ma nel dettaglio vediamo la situazione sulle province di Pordenone e Udine ampi spazi soleggiati in un contesto stabile asciutto con temperature minime contenute di notte al primo mattino massime che tenderanno a toccare punte di 17 gradi nelle ore centrali della giornata. Situazione analoga anche per quanto riguarda le province di Gorizia e Trieste quando avremo ampi spazi di cielo sereno con temperature che non subiranno particolari variazioni ma con ventilazione sostenuta specialmente in serata. Dettagli ulteriori vi aspettano come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.